Chef Franco per la cucina tradizionale rozzanese, cosa ci ha cucinato questa sera? Posso dire l'impiattamento lascia un po' a desiderare Questa è la situazione, io che faccio le lentigine a mano con una pressione psicologica Questo sarà il risultato finale Oh allora, una piccola errata corrige, un piccolo errata corrige Allora sì, Chiara Ferragni è andata a Los Angeles con Manuele Mamelli Abbiamo visto la clip prima, ma ci sono anche altre influencer Tra cui Veronica Ferraro qui sta facendo, ha fatto un corso di pilates Queste sono le persone che sono con lei a Los Angeles Chiudiamo con alcune pics e al prossimo aggiornamento Un bacione, ciao!